Messina per la prima volta in aula, per la verità un po' di confusione, si è perso tanto tempo, anche il collegio non ha nascosto il disappunto perché così si rischia di dilatare ulteriormente i tempi. Sì, i tempi si stanno allungando, è evidente però che non si può pretendere che il processo che deve essere fatto garantendo il diritto di difesa di tutti, tutte le parti fanno il proprio dovere e ognuno cerca di portare avanti le proprie stanze. Prima giornata dedicata all'appello, il Messina era presente in aula, a differenza di quanto è avvenuto con il Barletta, una delle società che seguite con maggiore attenzione. Sì, ovviamente il Barletta partecipa al processo in quanto società deferita, il Messina chiede di intervenire all'odierno procedimento come società interessata all'eventuale recessione proprio del Barletta e del Vigor Lamezia. Difficile parlare di sensazioni perché ancora non è accaduto praticamente nulla, rinvio al giovedì. Assolutamente, ci aggiorniamo domani mattina alle 9, ancora fatto l'appello non si è praticamente fatto nulla, ci saranno i passaggi successivi, saranno quelli della valutazione delle istanze di intervento tra le quali appunto quella dell'ACR, dopodiché il Tribunale deciderà sugli interventi delle società che ne faranno richiesta e poi si inizierà col vero e proprio dibattimento. Ci saranno probabilmente dei testimoni da sentire e poi verrà a dare la parola agli avvocati per le conclusioni. Tempi sicuramente molto lunghi, domani sarà una giornata molto lunga. Sfidate, fra virgolette, l'avvocato Chiacchio, uno dei principali studi di diritto sportivo in Italia, insieme a quello di Grassani che qui con quattro collaboratori è accanto a Messa, studio milanese che invece è l'unico non coinvolto in questo processo. Per il vostro studio legale messinese è anche una sfida abbastanza stimolante? Ma è una sfida sicuramente stimolante, lo studio ha preso a cuore questa avventura che stiamo portando avanti, anche il mio studio si sta muovendo con i propri collaboratori, anzi mi corre l'obbligo di ringraziare i componenti dello studio che in pieno agosto hanno rinunciato alle proprie ferie, alle proprie vacanze per aiutarmi a portare avanti le difese del Messina e in particolar modo ringrazio l'avvocato Alberto Leo che è qui con me e mi sta dando una grandissima mano per valutare tutte le carte che obiettivamente sono davvero tante. Dal punto di vista poi delle sensazioni, dal punto di vista della sfida ad eventuali altri studi, quelle le riserviamo al Tribunale, vedremo domani come andrà a finire. Il Messina vuole partecipare a questo processo perché è portatore di un interesse ben preciso, l'interesse di partecipare per dimostrare di aver condotto una stagione agonistica sul campo, di non aver partecipato a Combin e di aver subito invece il comportamento di altri soggetti e di altre società che con questi comportamenti sicuramente non leciti si sono visti salvare rispetto ad una retrocessione che invece ha avuto il Messina che però ha sempre avuto un comportamento leale e corretto. Grazie a tutti!